Benvenuti a Italiano 1, lezione 1, primi contatti. Buongiorno, mi chiamo Venere. E tu come ti chiami? Buongiorno, Venere. Mi chiamo Davide. Buongiorno, mi chiamo Michelle Obama. Come si chiama lei? Buongiorno, mi chiami? Piacere di conoscerla. Io sono Sergio Mattarella. Davide, come stai? Sto bene, grazie. Signor Mattarella, come sta? Abbastanza bene. Sono di Cipro, sono greca. E tu di dove sei, Davide? Sono di Gerusalemme, sono israeliano. Io sono di Chicago, sono americano. E lei di dove è, signor Mattarella? Io sono di Palermo, sono italiano. Quindi, vediamo che ci sono due modi per fare domande. C'è un modo informale, come ti chiami, e un modo formale. Come si chiama lei? Poi, un'altra domanda che possiamo fare è Come stai, informale, e una domanda invece formale è Come sta lei? Una domanda informale è Di dove sei? E una domanda informale è Di dove è? Qui troviamo l'alfabeto italiano A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z E ci sono delle lettere straniere I lunga, K, W, W, Y, X E le vocali A, E, I, O, U